Il nuovo è una parola grossa, mi sembra un governo che va in perfetta continuità rispetto al governo Renzi, mi fermerei qui, poi a noi compete come amministrazione da un punto di vista istituzionale cooperare con tutte le altre istituzioni, quindi con i governi nazionali, con i governi regionali, poi a tutti noto la distanza politica che noi abbiamo con questo modo di fare politica e con il governo Renzi e con il governo Renzi Bis presieduto da Gentiloni.